Sono Giorgia, ho 23 anni e sono una studentessa di Scienze Motorie. Lo sport è la mia passione, infatti sono un'istruttrice di nuoto, un giudizio di gara di nuoto e sincronizzato. Ho tantissimi hobby come la scrittura, la musica e il cinema. A 9 anni mi è stata diagnosticata l'alassia di Friedrich, una patologia neurodegenerativa. Da quando agli adulti sono in carrozzina. Io, come tantissime altre persone nella mia condizione, voglio partecipare attivamente alla vita sociale, andare a dementi, incontri, concerti di vario tipo. Ma trovare biglietti per una persona con disabilità è sempre un'impresa. Non è mai indicato un contatto diretto a cui rivolgersi. A volte se ne occupa l'organizzatore principale, piuttosto che terzi, i teatri o i diretti palazzetti. Si perdono mesi per cercare di trovare la persona che se ne occupa e poi magari i biglietti sono terminati. La mia proposta è quella che le agenzie di vendita inseriscono nel loro sito una sezione dedicata ai disabili dove inserire i propri dati anagrafici e allegare il certificato di invalidità. E così verrà inviata una richiesta diretta agli organizzatori che poi si occuperanno di tutto il resto. Grazie.